Io credo che la pasta sia un prodotto molto significativo perché non si aggiunge nulla alla pasta, si sottrae. De Mattei Sagra Alimentare è un'azienda familiare dotata di un mulino e un pastificio a Flumeri in provincia di Avellino. È un'azienda molto presente sui mercati internazionali, per l'85% esportiamo i nostri prodotti. Siamo molto legati al nostro territorio, oggi contiamo oltre 800 aziende agricole che coltivano per noi un grano 100% italiano. Attraverso Cassa Depositi e Prestiti abbiamo trovato un'interlocuzione di alto profilo, soprattutto per aver compreso le linee di sviluppo del nostro progetto, per i risvolti di sostenibilità, sociale, ambientale, sia nei confronti della comunità degli agricoltori, ma anche nei confronti dei consumatori. Vediamo sicuramente nuove opportunità anche con Cassa Depositi e Prestiti, laddove si voglia sostenere la crescita anche all'estero. La pasta è un prodotto davvero speciale, si sposa con quello che credo l'uomo stia ricercando nell'alimentazione, cioè un prodotto vero, con quei valori di semplicità, di naturalità.